Buongiorno, buongiorno a tutti. Ben trovati con questa edizione di Mattino 6, mercoledì 28 marzo 2018 all'interno della settimana che ci porterà alla Santa Pasqua, pronti a sfogliare le pagine dei quotidiani locali e le prime nazionali anche a rivedere alcuni dei servizi realizzati ieri dalla redazione del TG6. Iniziamo subito la nostra rassegna vedendo le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Siamo sul centro edizione di Pescara che apre così il Corso Vittorio, torna il doppio senso a Pescara, oggi la riapertura al traffico nelle due direzioni dopo quattro anni. Scendiamo e siamo alla fotonotizia, c'è lo sport, il mondo dello sport, applaude l'impresa dell'acqua e sapone, visita nella redazione del centro con la Coppa Italia vinta proprio dalla società della famiglia Barbarossa che ha trionfato nelle final eight di Coppa Italia a Pesaro nello scorso fine settimana con la vittoria in finale 3-1 sul Luparense, campione d'Italia. E poi l'addio, gente comune, personaggi tv in fila ieri per Frizzi. A Orsogna, Juliette Binoche, ciao Abruzzo, arriverò presto. E poi sempre per lo sport, 1-1 in Inghilterra, insignia, regala un sorriso alla nazionale. E poi ancora, vediamo sotto la fotonotizia, cure più facili per il diabete, i 5.000 malati abruzzesi riceveranno il rilevatore di glicemia. La politica verso le regionali, lo spauracchio del Movimento 5 Stelle fa ricompattare il PD. E poi appalto sbloccato, sì, alla superstrada Abruzzo, Amatrice. Poi leggiamo una serie di richiami di cronaca a Picciano, sempre nel Pescarese, fingono un malore e rubano risparmi ad una anziana. E poi ancora a Pescara, caos, bollettini, tari, calcolatore, fai da te sul sito del comune. A Monte Silvano, vigili del fuoco, via libera, alla caserma. E ora siamo all'edizione di Chieti del centro, che apre così con la cronaca, gli italiano il dito per rapinarlo. A San Vito Chietino, negoziante torturato per 45 minuti e mutilato per i soldi. E poi la fotonotizia, a Lanciano i banditi perdono una parte del bottino durante la fuga, ritrovati in auto i preziosi di Sarnioro. E poi altri richiami di cronaca, venerdì a Chieti, processione, ecco i divieti e le navette. Abbasto, adesioni eccellenti, lega, campagna, acquisti nel centro-destra. Poi per il lavoro, Chieti il comune, regolarizza nove precari. Siamo all'edizione terramana del centro, che apre così condannati due mariti violenti. Pene per sei anni, in un caso la moglie era vietato uscire da sola. Poi la fotonotizia, a Nereto portato via dal parco Brecht un secchio pieno di siringhe. La polizia nel covo dei tossicodipendenti. Altri richiami verso le comunali, qui parliamo di politica. A Teramo morra, troppi conflitti. Per ora mi defilo, dice l'ex assessore regionale ai trasporti. Multopoli a Roseto, il comandante deve restituire 74 mila euro. Poi in basso, patto comune operatori Pineto, la tassa di soggiorno rinviata al 2019. In basso, il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, la falsa felicità delle coppie su Facebook. Proseguiamo, siamo all'edizione aquilana del centro. Questa è l'apertura a Bosco Urbano sotto il viadotto A24. L'Aquila e i costruttori chiedono al comune il baratto con le case equivalenti. La fotonotizia, studenti aquilani a Berlino per conoscere i segreti delle imprese. La trasferta degli alunni del liceo linguistico. E poi per le vicende del comune all'Aquila riconteggio voti e rimpastola, destra insorge. Ad Avezzano, disabili picchiati, indagato un sacerdote. E poi a casa del vecchio Subequo, frate contestato, si dimette e va in missione. E ora il messaggero Abruzzo. Ecco la prima pagina. Anziano torturato dai rapinatori. San Vito Chietino lo hanno immobilizzato in casa e gli hanno amputato un dito. Ferocia, senza precedenti, su un uomo di 73 anni per un bottino di 10.000 euro. Poi sotto la testata, i giorni delle tasse tari a Teramo, la provincia litiga, rischio ingorgo a Pescara. Il caso Bussi, boom di lauree. L'ex paese fabbrica ora produce dottori. E poi per lo sport, il calcio in particolare, Pescara a Brescia, è già uno spareggio salvezza. Pettinari sembra out dopo la protesta con i pifari. Dentro Capone e Valsania. In serie C sorride il Teramo. Il Vicenza penalizzato di 4 punti è alle spalle. Ora, di spalla, leggiamo, bus da incubo. Il 16% dei mezzi non è in regola con la revisione. L'indagine condotta da Facile.it segna l'Aquila la maglia nera. La fotonotizia, transumanza, patrimonio dell'umanità. Candidatura Unesco, rischio conflitto con la perdonanza. Sempre in taglio medio, restando all'Aquila. Il centro-sinistra recupera voti, ribaltone vicino. Continuano i riconteggi in vista dell'udienza di maggio. Rischio, anatra, zoppa. Poi in basso, ecco il tema della settimana santa, Chieti, Sulmona e gli altri eventi. Proseguiamo e siamo sulla città. Quotidiano della provincia di Teramo che apre con la cronaca. Carabinieri. Carabiniere fa sparare un minore. Con la pistola di servizio insegna il figlio dell'amica. Radiato dall'arma due volte sotto processo. Sotto la testata. Ecco qui il ristoratore geloso vessava la compagna. C'è una condanna, un'altra condanna per un barista violento che picchiava ancora la moglie. Ecco la foto notizia. Cyberbullismo, addio. Il camper della polizia in piazza con il Corecom. Di spalla la politica. Teramo al voto ancora in primo piano. L'ex assessore regionale Giandonato Morra che si chiama fuori dalle beghe. Basta infantilismi. La crisi a Giulianova. Silenzi e nuove dimissioni in consiglio comunale. In basso Via Longo a Teramo. L'housing è vivo e vegeto. Le palazzine ancora inserite nella lista delle alienazioni. Poi c'è un lutto al comune di Notaresco. Oggi funerali Notaresco appunto in lutto per la morte del vice sindaco Sandro Saccomandi. Lasciamo i quotidiani locali. Ci torneremo tra poco. Ora la nostra panoramica sulle prime pagine nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. Chiaramente la politica in primo piano con le trattative per il nuovo governo. Soprattutto tra i primi due partiti delle ultime elezioni. Salvini. L'avviso a Di Maio. No avveti su Forza Italia e Premier. La replica. Il governo annoio. Si tradisce il voto. Scontro in vista delle consultazioni. Nuovi capigruppo del Rio dei Dem scontenta l'ex segretario. Poi ancora l'intervista al leader della Lega Salvini. Io ho mai alleato con il PD. Se lo cerca il Movimento 5 Stelle auguri. Poi parla Tajani. Vicepresidente Azzurro. Resto a disposizione. In basso la fotonotizia. Putin contestato e la Nato espelle altri sette diplomatici in piazza per le vittime del rogo. Caso spie effetti anche sul mondiale di calcio. Andiamo ora con Repubblica. Ancora la politica per il titolo d'apertura. Veti. Lega 5 Stelle. Di Maio. Sonda. Il PD. Duello con Salvini sul Premier e sul ruolo di Berlusconi. Contatti tra il leader 5 Stelle e Martina. Gentiloni. Niente DEF. Se ne occuperà il futuro governo. Del Rio. Capogruppo. Dem. All'unanimità. E poi ancora la fotonotizia. A Roma un lungo grazie a Frizzi. Volto della TV focolare. Che non c'è più. In basso. Al vaglio le responsabilità dei genitori. Foggia. Il predicatore dell'ISIS. Insegnava la GIA dai bambini. Tagliate la testa agli infedeli. E poi la ricerca. Chi passa troppe ore al computer ha risultati più bassi in matematica. Chiesto il processo. Bell'uomo. Il giudice che tormentava decine di allieve nel muro dei silenzi. Siamo al fatto quotidiano. Ecco l'apertura. Governo di Maio litiga con Salvini. Riparte da zero. E tratta con tutti la strategia dei 5 Stelle. Poi caso Consip. Leggiamo. Consip no complotti. Prove su Papatiziano e Scaffarto. Reintegrato. Il riesame riabilita il maggiore. E le indagini. In taglio medio. Ad Agrigento. Miracoli della burocrazia. Venduta alla Valle dei Templi. Un imprenditore ha acquistato 4.000 metri quadrati per 10.000 euro. Poi ancora siamo al messaggero. Ecco l'apertura. L'ite. Lega. Movimento 5 Stelle. Governo lontano. Di Maio. L'incarico spetta a me. Abbiamo il 32%. Salvini. Così salta tutto. Noi mai senza Forza Italia. Mossa di Berlusconi. Ticket. Tagliani. Gelmini. Per il partito. Del Rio. E Marcucci. Capigruppo del PD. Quindi poi sotto la testata la candidatura, la transumanza all'esame UNESCO come patrimonio dell'umanità. E poi l'amichevole della nazionale. Azzurri. Un rigore e tanti errori con l'Inghilterra. Salvini. Extremis. 1 a 1. In taglio medio. Intanto la fotonotizia. Verso l'Italia terroristi con documenti falsi. Allarme Frontex. Si fingono profughi con passaporto marocchino. E poi la cronaca, sempre in taglio medio. Bimbe molestate in un asilo a Roma. Maestro in manette. I video shock degli investigatori inchiodano l'insegnante 25enne della Montessori. In basso vediamo questi due richiami. Tesla crolla in borsa per troppi debiti. Anche Facebook e Twitter in caduta libera a Wall Street. Il messaggio del popolo di Frizzi. 10.000 persone in fila omaggio alla sua normalità. Siamo alla prima pagina di Libero. L'apertura. Poltrone e sofà per tutti. Politica impegnata a spartirsi i poteri. Il governo in alto mare. I programmi latitano. Partiti attivi sono nel distribuirsi posti a ritmo serrato. Di Maio fa i capricci. Non rinuncio a fare il premier. Salvini replica. Io e io non rinuncio. A Berlusconi auto blu più numerose al sud. Milano e Roma ne hanno meno di Messina. Brindisi e Oristano. La fotonotizia. Chi ha rotto il Maroni? Il governatore desaparecido della Lombardia non spiega i motivi del suo ritiro. In basso no alla guerra fredda. È bastata quella calda. Italiani favorevoli a Putin. Ma l'Unione Europea caccia i diplomatici russi. Il sole 24 ore. Ecco l'apertura. Il bilancio UE. Bruxelles punta su 56 miliardi di profitti BCE. Tra le proposte per il budget post Brexit. Anche una tassa societaria armonizzata. Ipotesi di mini euro bond anti crisi. E poi legislatura via all'altro lato di Moscovici. Allega 5 Stelle sui conti politiche responsabili. Salvini. Governo solo con Forza Italia. Attenzione con Di Maio sulla Premiership. Ed è nodo sulla manovra. In basso derivati stretta antitruffa. Scatta la Mifid 2. L'ESMA vieta le opzioni binarie al dettaglio. E limita i CFD. Avanti con il tempo. L'apertura alla grande truffa alla Lazio. Un hacker ruba 2 milioni. La società bianco-celeste raggirata da un finto emissario del Feyenoord. L'ultima rata del pagamento del difensore De Vrij. Dirottata in Olanda. E poi la fotonotizia. Dove si aprirà la prossima voragine. Studio geologico sui quartieri romani. Rischio crateri profondi fino a 25 metri. E poi di spalla. Zinga all'angolo. Ora è costretto alle larghe intese. Governatore senza numeri. Siamo alla stampa. Che apre così Italia la Jihad. Mai così pericolosa. Parla il ministro dell'interno Minniti. Il caso dell'imam di Foggia. Senza eguali in Occidente. Arrestato un maestro egiziano. educava gli alunni all'estremismo per il viminale indispensabile. L'unità delle forze politiche. In taglio medio c'è questa curiosa fotonotizia. Il buonsenso renderà gentili i robot. Gli studi provano a dare empatia agli androidi per interagire con gli uomini. E poi di spalla la politica. La lite tra Salvini e Di Maio preoccupa Mattarella. Senza numeri niente in carico. Il colle si prepara a uno stallo. Le ha consultazioni bis. Il capo del carroccio al leader grillino. Non metta veti. Siamo al mattino. Ecco l'apertura. Di Maio Salvini la prima lite. Se dice io premier o niente salta tutto. Noi al 32% conta il popolo. Tensione sul governo. Mentre l'Europa chiede all'Italia responsabilità. Intesa PD del Rio e Marcucci. Capigruppo. E poi di spalla c'è lo sport. Chiaramente il mattino punta l'occhio sul Napoli. Perdere Sarri. L'unico rischio da evitare. Poi l'amichevole. Quella della nazionale. Un rigore di insigne. Salva la solita Italia. Siamo ora al giornale. Fabbrica di lauree. L'università dei grillini e i bonifici a San Marino. Nell'Ateneo che sforna i ministri del Movimento 5 Stelle. Corsi per i sindacalisti della polizia. E i soldi finiscono all'estero. E poi la politica. Botta e risposta sul no a Forza Italia. Primo scontro tra Salvini e Di Maio. E poi in basso. Tanto questa fotonotizia divisa in sei parti. Tesoretto da 26 milioni per gli ex parlamentari. Da Alfano a Di Battista. E poi Isis. L'imam di Foggia. Sgozzate i cristiani. Insegnava la guerra santa. Arrestato. La verità. Ecco l'apertura. Azzerate le indagini sul crack Veneto Banca. Dopo due anni i magistrati di Roma scoprono che far luce sui maneggi di consorte e compagni. Non spettava loro ma i PM di Treviso. Tutto da rifare. Sequestri compresi e per i truffati. La giustizia si allontana. La fotonotizia. Renzi tiene ancora in pugno il PD. E vuole farlo alleare con Forza Italia. E poi in dettaglio medio. Via Libera anche qui alla pillola per i trans. Autorizzato il farmaco che blocca la pubertà per consentire di scegliere il proprio sesso. Andiamo a chiudere con l'avvenire. Ecco l'apertura. Sfida sul Premier Salvini. No a Diktat. Di Maio scelto dalla gente. I paletti dell'Unione Europea. Mostre responsabili sui conti. I 5 Stelle insistono per il leader. La Lega rilancia con Forza Italia. Ma emergono priorità condivise. Alta la legge Fornero e Vitalizi. Presto vertice a 2. Chiudiamo qui la fase dedicata alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Torniamo ai locali. Siamo appunto sul centro. Pagina 2. La sanità Abruzzo fa passi avanti. Diabete, cure più facili per 5.000 pazienti. La regione distribuirà centinaia di dispositivi per l'automisurazione della glicemia. Lo riceveranno anche 600 bimbi. E poi di spalla la scheda tecnica. I nuovi rilevatori incruenti non prevedono l'uso di aghi. E poi in basso, come abbiamo già visto, Unesco. L'Italia candida alla transumanza. Ha presentato il dossier per farla diventare patrimonio dell'umanità. La scelta non esclude la perdonanza. E poi grandi appalti stradali. Abruzzo-Amatrice. Sbloccati i lavori. Dopo anni di attesa arriva l'ok all'infrastruttura regionale. E' più importante per i soccorsi in caso di nuove scosse. In taglio medio, dragaggio di Ortona. Trovata la soluzione, la sabbia della discoglia sarà dimezzata. Così la regione cerca l'accordo con quattro comuni e il parco del Cerrano. Avanti. Siamo a pagina 12. La politica in primo piano verso le elezioni regionali. In particolare lo spauracchio del Movimento 5 Stelle fa ricompattare il PD. In 10 ore di direzione regionale è deciso il piano per non perdere la regione. D'Alfonso Lolli e un comitato porteranno alla scelta dello Zingaretti d'Abruzzo. Poi in basso, aeroporto patto sulla sicurezza, la saga, i vigili del fuoco potenziano il sistema antincendio. Siamo alle pagine di Pescara. Con l'apertura, corso Vittorio, doppio senso. Dopo quattro anni alle 10.30 riapre alle auto nelle due direzioni. Isola Pedonale la domenica raccolte le richieste dei negozianti, dice il primo cittadino Marco Alessandrini. Qui vediamo alcune fasi, alcune tappe che hanno riguardato corso Vittorio negli ultimi anni. 23 maggio 2014 si inaugura l'Isola Pedonale. 1 dicembre 2014, apertura con il senso unico. 26 marzo 2018 il corso riapre dopo i lavori. A tal proposito vediamo il punto di vista dei commercianti in questo servizio realizzato dal Tg6 proprio sulla riapertura del doppio senso di marcia su corso Vittorio a Pescara. Terminati i lavori dell'ACA, oggi il corso Vittorio per l'ultimo giorno sarà a senso unico, da domani torna il doppio senso. Marina Dolci, commercianti di Pescara possono tirare finalmente un sospiro di sollievo? Sì, assolutamente. Aspettavamo questa riapertura a senso doppio e ci aspettiamo il meglio. Ringraziamo l'amministrazione, ci hanno ascoltato, abbiamo fatto anche un ingresso in un consiglio comunale. Sono stati molto gentili e adesso ci aspettiamo che il pubblico di Pescara, del vicinato di Spoltore, Francavilla, Montesilvano, rientri nella nostra città con più facilità. Cosa significa riavere a distanza di qualche anno forse la strada più importante della città a doppio senso? Significa tanto perché è stata proprio l'arteria di Pescara e ci unisce da nord a sud. È veramente importante, anche per Corso Vittorio, negozi storici per noi del centro. L'aspettiamo veramente con ansia. Chiedete anche un po' di clemenza ai vigili urbani? Sì, veramente sì. Almeno ai primi tempi dateci tempo di riabituarci. Sicuramente da parte dei cittadini ci sarà attenzione a non parcheggiare, ricordiamoselo, è solo una viabilità riaperta e non si potrà parcheggiare. Però saremo tutti più contenti. Il centro commerciale naturale della città è pronto dunque a rianimarsi. Se si va verso la bella stagione, voi auspicate ovviamente una maggiore presenza, soprattutto nelle weekend, anche di persone che vengono da fuori città. Sì, assolutamente. Il sole sta tornando, i negozi saranno aperti, siamo pronti con tutte le nuove collezioni. Pescara è bella, quindi venite a passeggiare, la strada è più facile, il centro come c'è naturale aspetta tutti. Perseguiamo sempre sulle pagine di Pescara, cantieri in mezza città, stop solo a Pasqua, lavori dal Ponte del Mare alla Rivera Sud, intanto domani si inaugura la ciclabile in Viale Pindaro. E poi ancora la vicenda Tari, il comune ripristina il calcolatore Fai da te, l'assessore di odati corre ai ripari per risolvere il pasticcio dei bollettini in ritardo. Ha aggiornato il sistema online per i conteggi, niente multe per chi paga dopo il 31. E intanto Forza Italia chiede al sindaco una proroga per i versamenti. La cronaca, siamo nel Pescarese a Picciano, fingono un malore e le rubano i risparmi. I pensionati raggirati, la vittima, 81 anni, era appena uscita di casa a Picciano, quando è stata fermata da due ragazze. Poi in taglio medio, la mamma di Alessandro Neri dirette Facebook tutti i giorni per spingere l'assassino a confessare. Sempre per la cronaca, in Via Tavo scatta il blitz dei carabinieri, irruzione all'alba nel casermone del ferro di cavallo, perquisite case e auto, controllate, 30 persone. Avanti ancora, sempre per la cronaca, torniamo a Pescara, ragazza cade nel fiume, salvata giù dal ponte Risorgimento. Il vigile urbano Volpe la soccorre con la barca. E poi ancora, sempre a Pescara, Asl, potenziati gli sportelli per rilasciare l'esenzione. Il 31 marzo scade la certificazione, ecco come fare per ottenere il rinnovo. I residenti a Pescara possono recarsi sia in Via Rieti, sia sulla Nazionale Nord. Proseguiamo e siamo a pagina 20. L'Anfas celebra i 60 anni con la musica e Nduccio. Oggi alle 17 gli operatori brinderanno in contemporanea, in tutte le sedi nazionali, aperto al pubblico il laboratorio di artigianato realizzato dagli ospiti della struttura. In basso vediamo papà e donatori di sangue, sorteggiati premi della lotteria della festa del 19 marzo. Siamo alle pagine di Montesilvano con il progetto di Via Chiarini. Vigili del fuoco, accordo per la sede permanente. Sindacati, comandante provinciale e comune favorevoli a riconvertire la struttura. Ieri l'incontro e l'appello al prefetto Basilicata per portare avanti la proposta. E poi in basso, sempre a Montesilvano, anziano derubato, caccia al ladro. Dopo il furto del portafoglio, il pensionato era caduto per inseguire il quindicenne. Siamo a Città Sant'Angelo. Tagli alla manutenzione, spesa sociale invariata, via libera della giunta al bilancio comunale da portare in aula. Florindi, il primo cittadino, abbiamo ridotto tutto ciò che era possibile, compresa la cancelleria. E poi di spalla, lavori per il teatro, Pienella chiede i danni. E tornando a Montesilvano, Orsini si ispira all'ex sindaco Cantagallo, isola pedonale, fino al mare. E siamo a Francavilla. Danneggiato il collettore mai entrato in funzione. L'effetto delle mareggiate fa sentire i suoi effetti sulla riviera Nord, cioffi del Lido Bianco. Soldi pubblici buttati perché incompleto e mal protetto. Siamo sempre nel Pescarese a bussi, nuovi impianti più sicuri per il futuro polo chimico. La società di Greco e Todisco ha investito 6 milioni sull'attività produttiva, già in funzione ai macchinari, per il trattamento delle acque inquinate di falda. Siamo alle pagine di Chieti. Via libera alle assunzioni. Il Comune stabilizza 9 dipendenti precari, contratti a tempo indeterminato per 7 geometri e 2 impiegati amministrativi. Revocato il bando del 2014 per assumere i tecnici. Ora si entra senza concorso. E poi ancora in basso leggiamo fondi per ex Pier Antoni e borse di studio. L'Ateneo cofinanzia con un milione e mezzo la realizzazione della casa dello studente in centro. E sempre a Chieti siamo appunto nella settimana che ci porta alla Santa Pasqua. Arriva la processione. Ecco i divieti e le navette. Venerdì all'imbrunire il corteo più atteso. Bus ogni 5 minuti dal Palatricale in Viale 4 novembre. Posti per disabili, gli stalli per i camper a Piana vincolato. E poi ritualità e segreti delle cerimonie sacre al Museo Barbella. Lezione del Trifoglio sulla storica manifestazione teatina e sui talami di Orsogna. In basso rubavano nei centri commerciali tre arresti a Chieti. La polizia ferma i banditi autori dei furti al Megaloia Decatron. Sono tutti di Monte Silvano. E poi ci spostiamo ora nel Chietino. Gli tagliano un dito per farsi dare i soldi. Torturato e mutilato il titolare 73enne del minimarket incontrato a Pontoni. I banditi fuggono in auto con denaro e sigarette. La vittima dell'agguato è Domenico Iezzi. E questa è la sala cinesca chiusa del minimarket in località Pontoni a San Vito. Ora le reazioni. Ora telecamere e più controlli. Catenaro c'è un progetto già pronto. Altobelli. Cittadini pronti a rifare le ronde. Ora le pagine di Teramo del centro verso le comunali a Teramo. Morra un passo indietro. Prima si trovi la sintesi. Centrodestra a pezzi. Il coordinatore di Fratelli d'Italia rinuncia al mandato ma non chiude la porta. Allora vediamo il servizio realizzato dal Tg6 sulla situazione del centrodestra a Teramano con le parole dell'ex assessore regionale Giandonato Morra. Giandonato Morra, avvocato penalista ed esponente di spicco di Fratelli d'Italia, forte di un successo di voti personali consistenti conquistati alle ultime politiche, è il candidato sindaco di Teramo per il centrodestra. Su di lui confluiscono il blocco civico di Mauro di Dalmazio, la Lega e Forza Italia, sempre se lui accetterà, visto le spaccature e i litigi tra i due forzisti, Paolo Gatti e l'ex sindaco Maurizio Brucchi, che si detestano apertamente ed apertamente si fanno guerra. Cosimorra si arrabbia e minaccia di gettare la spugna prima ancora di iniziare la corsa. Il centrodestra confluisce sul suo nome, però ci sono ancora dei contrasti, ma perché? Guardi, è un fatto veramente simpatico, lo dico col sorriso. Di solito quando una coalizione litiga, litiga perché ognuno magari ha la sua candidata tra sindaco. Da quello che emerge sembra che questa cosa non ci sia, perché da quello che leggo e anche da quello che mi dicono ci sarebbe questa volontà condivisa da tutti di chiedermi la disponibilità, disponibilità che non è stata mai data. Io però devo rimarcare una cosa, in questi giorni leggo ogni volta che c'è un comunicato dei distinguo, laccio e lacciuoli, persone che discutono sul metodo, discutono sulle persone. Allora io dico che questa campagna elettorale che si sta avvicinando è molto complicata, sarà una campagna dura anche per le problematiche che ci sono state nel centrodestra, sia amministrative che di gestione della coalizione. Allora io dico che ci vuole maturità e mi sembra che molti atteggiamenti che sto vedendo sono da minorenni e forse neanche minori emancipati. Allora dico questo, se ci può essere una sintesi ampia dell'area di centrodestra attorno a un candidato, possa essere io o un altro, sono disposto sia personalmente e come partito a discuterne. Se invece ci sono dei distinguo che la gente, perché stiamo in giro per terra, non riesce a comprendere, allora veramente con grande tranquillità dico sceglietemi un altro sindaco perché io non ho mai posto la mia candidatura, perché fare il sindaco di Tegheram è veramente da una parte un onore ma è anche un grande impegno, ma è un impegno che si può superare soltanto con un'armonia di coalizione, con un programma forte, condiviso, oggettivamente comprensibile dai cittadini che dovrebbero essere l'unico pensiero di chi fa politica. Pagano deve scegliere il coordinatore regionale, il senatore conferma la linea di Forza Italia per l'accordo di coalizione, sentirò brucchi e gatti, ma decido io. E poi ancora la cronaca, donne maltrattate, le sentenze, pene per sei anni a due mariti violenti, condannato a 16 mesi un cinquantenne, la ex lo accusa in aula, mi facevo uscire di casa solo in compagnia delle figlie, 4 anni e 8 mesi inflitti, un altro uomo imputato anche per estorsione e rapina. Poi ancora a Pineto l'imposta di soggiorno slitta dal 2019, oggi la decisione sarà discussa in Consiglio, la tassa sarà abbinata una guest card con sconti e servizi in più. Poi sempre a Pineto, no alla pista ciclabile in centro, l'opposizione deposita una petizione con 800 firme, è pericolosa. Pagine Aquilane, le nuove idee per la città Bosco Urbano con il baratto delle case, il progetto del lancio è presentato al Comune, riqualificare 3 km sotto il ponte A24 in cambio delle abitazioni equivalenti. E poi in basso, pericolo Anatra Zoppa, dunque al Comune dell'Aquila, riconteggio voti, la destra grida al complotto, il neoparlamentare della Lega d'Eramo va all'attacco dopo il ricorso del centro-sinistra. E poi ancora, e chiudiamo con questa pagina la prima parte di mattino 6, il parroco si dimette, vado in missione, a Castelvecchio su Beco, padre Massimiliano annuncia la resa dopo l'estenuante braccio di ferro con i fedeli. E poi, leggiamo in taglio medio, disabili picchiati, indagato un sacerdote originario di Avezzano, il predato responsabile di un istituto in Basilicata, l'accusa omesso controllo. Allora, andiamo in pubblicità, prima le previsioni del tempo e poi ci ritroviamo con la seconda parte di mattino 6, a tra poco. Di nuovo buongiorno il messaggero, ora andiamo a sfogliare con pagina 40 e i riti della Pasqua. Ecco qui, Chieti rinnova la più antica processione, oltre 1200 persone, protagoniste di un evento corale molto amato. L'Aquila ricorda Remo Brindisi nel centenario dalla sua nascita. Blindata anche la Madonna che scappa per la nuova normativa Gabrielli, accessi non più liberi, contapersone e vie di fuga definite. Nel capoluogo Peligno il caratteristico passo dei portari è quello lento e dondolante dello struscio. In basso, cambiando argomento perché si parla di sanità, diabete, ecco i nuovi strumenti per i 4.000 pazienti abruzzesi. La svolta è arrivata grazie all'atto programmatorio della regione voluto dall'assessore Silvio Paolucci. A tal proposito vediamo il servizio. Sessore Paolucci, importanti novità per quanto riguarda la cura dei diabetici nella nostra regione? Mettiamo al centro la qualità delle cure, in questo caso anche del monitoraggio, riguarda 4.600 pazienti in questa regione, di cui 600 bambini ed è un grande traguardo per questi pazienti e ovviamente desidero ringraziare le associazioni tutte, dei familiari, dei bambini, degli stessi pazienti, gli operatori, l'agenzia sanitaria che mi hanno permesso di deliberare in giunta regionale, ovviamente con un documento tecnico, l'adeguamento di questa regione e il regolamento rispetto a un nuovo LEA. Da questo punto di vista migliora di molto la qualità della vita di queste persone. Nel documento si fa riferimento a tecnologie di diversa complessità, che sono tecnologie per la rilevazione del glucosio interstiziale, dico una parola difficile, che non è la glicemia al polpastrello. Questo glucosio interstiziale è direttamente proporzionale alla glicemia capillare. Nel momento in cui esistono dispositivi in grado di rilevare con un sensore sottocutaneo questo glucosio, con dei limiti che abbiamo evidenziato ma con dei punti di forza perché sono molto affidabili, aggiungiamo tecnologia, qualità di vita nell'individuazione delle persone e dei soggetti che se ne possono veramente avvantaggiare. Abbiamo numerosi sensori in grado di rilevare il glucosio interstiziale e in base alla tipologia del soggetto che deve avere anche delle abilità particolari, quindi parliamo di indicazioni cliniche ma anche di selezioni dei pazienti che devono saper gestire queste tecnologie molto avanzate e noi li abbiamo rese grazie al documento, al lavoro e al supporto disponibili. Esistevano, le abbiamo strutturate in maniera organizzata. che richiesti dai PM serviranno alle limature dell'impianto accusatorio esistente, non sono previsti sviluppi. Ma sul caso elicotteri ci sono tanti testimoni, l'inchiesta del TGR Abruzzo ha scoperchiato il filone, dice il portavoce Gianluca Tanda. I carabinieri forestali impegnati negli accertamenti finali, non è esclusa la possibilità di altri indagati. E poi ancora, calcolatore online e bollettini e l'ingorgo della Tari, il comune accelera i tempi in vista della prima scadenza del 31 marzo, niente sanzioni a chi riceve i moduli in ritardo, lotta contro il tempo per consentire ai 60 mila contribuenti di mettersi in regola nei termini di legge. E la ASL teme l'assalto agli sportelli per la proroga delle esenzioni ticket, sportelli potenziati nei distretti di base per raccogliere le domande. L'invito a non aspettare l'ultimo minuto. In basso vele solidali che trionfa a Chiavari per le pescaresi di Femme Fatale nella regata per sostenere l'AERC, il team del circolo vento forte sbaraglia le concorrenti. Ragazza cade nel fiume salvata dai pescatori, il volo dal ponte di via Paolucci è stato notato dall'equipaggio di una barca, lei un incidente. E poi siamo a Bussi, nell'ex paese fabbrica boom di lauree, il singolare primato di Bussi in una sola sessione diventano dottori undici ragazzi. Il calo demografico non sembra sentirsi, il caso finisce in consiglio. Le congratulazioni del sindaco da Economia e Ingegneria, una squadra di neolaureati da Eldorado d'Abruzzo alle discariche dei veleni, pochi posti di lavoro. Il futuro fa paura. Poi ancora a Loreto la chiesa di San Francesco rivive, serata con i canti della Passione, si esibiscono i cantori di Chieti diretti dal maestro Fabio Dorazio, anche appena conclusi i lavori a San Domenico di proprietà del Ministero degli Interni. Andiamo ora sulle pagine Aquilane, siamo alla vicenda del Comune, Anatra Zoppa, risultato sul filo, duri attacchi dal centro-destra, quasi terminato il riconteggio, vicino alla soglia per il ribaltone, ma sono tante le incognite, le parole del sindaco Biondi, il centro-sinistra non si arrende a mollare la mangiatoia. Deramo in atto un golpe giudiziario romano sarebbe solo il vero risultato. E poi in basso Stolking, imprenditrice condannata a dieci anni. Avanti ancora, sempre all'Aquila, un grande bosco contro il degrado. Lancia ha presentato il primo progetto donato alla città e un piano di riqualificazione dell'area sotto il viadotto. Si pensa a una zona verde che possa anche riconnettersi con il parco fluviale, l'ospedale San Salvatore ed il polo scolastico. L'Iris rassicura con i costruttori, c'è collaborazione, intanto lievita il restyling di piazza d'armi. Siamo ora in Marsica, ad Avezzano, dove al momento sembra sventato il pericolo Anatra Zoppa. Ecco qui, comune, le deleghe, vice sindaco all'Udc. Lino Cipolloni si insedia sullo scranno più alto. Cascere della Lega va alla sicurezza. Di Micco ha i rapporti Europa. Poi tutta la squadra è stata confermata, tranne la neonominata Chiara Colucci, che avrà gli affari legali. Ma in consiglio la contestazione non cessa. Se si va avanti, De Angelis perde la maggioranza. Siamo ora alle pagine di Chieti. Morì per errore dei medici. Il giudice condanna la ASLE. Gli operatori sanitari aggirano in modo scorretto. La difesa ribatte. L'uomo sarebbe deceduto comunque. Grave aneurisma alla orta addominale. Diagnosticato con 10 ore di ritardo. Ora l'azienda sanitaria dovrà risarcire la moglie del paziente con 160 mila euro. E poi di spalla la band di Franco Califano. Domani sera al Liberarte, lo storico gruppo del Califfo, si esibisce alle 21 in corso marrucino con il paroliere Alberto Laurenti. Poi la cronaca. Furti a raffica nei negozi arrestati tre giovani. La polizia interviene a Megalò e li blocca. Poco prima i colpi a Decatron. Siamo in Frentania. I rapinatori gli amputano un dito. Il racconto shock del commerciante. Sono rimasto legato per un'ora e mezza. Stavolta mi hanno rovinato la vita. A parlare Domenico Iezzi, 73 anni, massacrato nel suo minimarket. I malviventi armati di pistola bottino di oltre 10 mila euro. Vediamo il servizio. E' ricoverato al reparto di ortopedia dell'ospedale di Lanciano Domenico Iezzi, il commerciante settantenne di San Vito Chietino, rapinato per la quarta volta nello storico minimarket in località Pontoni. Questa volta i malviventi lo hanno aggredito in quattro all'ora di chiusura. Cercavano soprattutto il denaro contante nell'unico negozio ancora aperto dopo le 8 di sera, in una strada secondaria tra case e campi di Ulivi. Durante il colpo la ferocia della banda si è manifestata contro l'anziano in maniera davvero spietata. Dopo aver preso i pugni al volto, l'esercente aveva già consegnato circa 2000 euro che teneva nascosti, ma i rapinatori insaziabili volevano altri soldi. Uno dei malviventi ha quindi afferrato un coltello da salumiere preso dal bancone e gli ha tagliato un dito, ma l'anziano non aveva più denaro da consegnare ai suoi aguzzini. Inutile il tentativo dei medici del Renzetti di ricomporre l'arto, la prognosi di 30 giorni a causa delle contusioni riportate. I malviventi hanno agito con il volto coperto, sembrava che parlassero italiano. Dopo il colpo sono fuggiti in auto, indagano i carabinieri del comando compagnia di Ortona. Le pagine di Teramo del messaggero, provincia e comuni e guerra sul pagamento di Tari e Tefa, il presidente di Sabatino. Ecco perché mancano fondi per le scuole e le strade, la minaccia di usare le maniere forti. Ora della vicenda se ne occupi la finanza. Leggiamo nei bilanci gli incassi degli enti sul tributo, sui rifiuti e da lì desumiamo quanto dovranno versare a via Milli. E poi a Giulianova, ecco qui, mini ospedale, tutti contro Teramo. 80 milioni della ricostruzione solo al capoluogo, rivalteremo la decisione della regione, dice Mercante. Costantini declassati a periferia dell'impero. Per Arboretti invece è una sortita elettorale in vista delle amministrative. Poi la cronaca sempre a Giulianova, sale sul tetto e fa la pipì sui degenti, poi fa la colazione nudo a ortopedia. Dal pronto soccorso l'uomo doveva essere portato nel reparto di psichiatria o di medicina. Andiamo rapidamente a sfogliare alcune pagine della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Siamo direttamente a pagina 10 l'ordine architetti chiede un concorso di idee, scrive al commissario per chiedere lumi sui compiti dell'università d'annunzio evocati da Mazzocca. L'argomento è la riqualificazione di via Longo. Ma l'housing rosa spina non è morto e sepolto, le sei palazzine comunali restano comunque inserite nel piano di alienazioni allegato al bilancio. Avanti ancora, siamo a pagina 12, Baltur, passeggeri in crescita del 15%, il vettore Teramano continua a investire sulla Sicilia, sulla Calabria, sulle destinazioni europee. Dal 17 aprile l'azienda valerà 4 nuove destinazioni con 6 linee dirette da e verso la Sicilia. Ottimi risultati conseguiti su linee storiche, sviluppate le collaborazioni per Francia, Spagna e Olanda. Avanti ancora, una vita da social fa tappa in Piazza Martiri. Ieri in città il camion anti-ciberbullismo della Polizia Postale e del Corecom dedicato ai ragazzi. C'erano anche le telecamere del TG6. Dopo Pescara arriva a Teramo il track della Polizia di Stato per parlare ai ragazzi dei pericoli della rete e del cyberbullismo. La campagna dal titolo Una vita da social vede protagonista un tir attrezzato di sala incontri, computer ed altre tecnologie che fa tappa nelle piazze delle maggiori città italiane. Qual è lo spirito di questa iniziativa? Quello di incontrare i ragazzi. Il track fa tappa in tutte le regioni d'Italia. Siamo ormai alla quinta edizione. Abbiamo incontrato circa 600 ragazzi ieri, studenti ieri a Pescara. Altrettanti ne incontreremo oggi a Teramo e quindi la Polizia Postale delle Comunicazioni ha scelto per l'Abruzzo quest'anno Pescara e Teramo. È già la quinta edizione. I ragazzi sono molto contenti e interessati, fanno tante domande. Quali domande per esempio? Di tutto. Una volta ho sentito dire, sono d'accordo con un sociologo che in occasione di un convegno disse che è la prima volta nella storia dell'umanità in cui i figli ne sanno più dei genitori. Ed è vero, stiamo attraversando un periodo storico in cui i ragazzi sono molto più preparati dei genitori. Il gap generazionale con i genitori, con gli insegnanti è molto ampio ed è importante anche per gli insegnanti, per i dirigenti scolastici molto attenti e sensibili a queste iniziative, a questo fenomeno, incontrare la Polizia di Stato, incontrare la Polizia di Postale delle Comunicazioni per parlare di tutto, di qualsiasi dubbio. Tra le situazioni più pericolose che i ragazzi oggi hanno segnalato a Teramo c'è quella della creazione di falsi profili utilizzati poi per insultare, incutere timore e postare video violenti. In questo percorso antibullismo, a fianco della Polizia Postale, c'è anche il Corecom Abruzzo che con i suoi esperti contribuisce a fare formazione su questi temi. Cosa rischiano i ragazzi sulla rete? Ecco, rischiano di essere coinvolti in tante situazioni che possono sfociare anche nelle responsabilità di carattere penale, ma soprattutto uno scontro generazionale tra grandi e piccoli e soprattutto tra giovani e meno giovani che hanno interessi diversi e sfruttano la rete per poter comunicare in maniera errata. L'attività che facciamo di sensibilizzazione è volta proprio a questo, cercare di creare consapevolezza nell'utilizzo del mezzo, di saperlo sfruttare e utilizzare per attività positive. In realtà abbiamo lo nostro sportello sulla web reputation, nel cyberbullismo che quest'anno ha avuto anche oltre 70 segnalazioni che testimonia che il problema c'è. Andiamo sempre sulla città, alle notizie della provincia, vediamo un paio di pagine. Radiato per aver fatto sparare il figlio dell'amica, carabiniere di Colonnella, sotto processo per aver ceduto la pistola d'ordinanza Beretta ad un tredicenne. A denunciare il militare è stata la madre del ragazzo che ha visto le foto scattate nelle campagne di controguerra. Doppio processo, sia di fronte al tribunale militare che lo ha già condannato, che al tribunale penale col processo in atto. E poi lutto a Notaresco per la morte di Saccomandi. Il vice sindaco si è spento ieri all'età di 63 anni dopo aver lottato a lungo contro una malattia. Si svolgeranno questo pomeriggio alle 15 funerali nella chiesa di San Rocco a Guardia Vomano. Passiamo allo sport e rapidamente vediamo le prime pagine dei tre quotidiani sportivi nazionali. È l'Italia che VAR apre la gazzetta. Insigne firma l'1-1 degli azzurri con gli inglesi. Ci salva un rigore. Passi avanti. Ora il nuovo CT. E poi le milanesi. Rivoluzione Cina-Inter. Sabatini dall'addio a Suning. Fine di un amore mai nato. Peraltro l'ufficialità dell'addio di Walter Sabatini all'Inter è arrivata pochi minuti fa. E poi ancora sollievo Cina-Milan. Ok di Mr. Lee. Partito il bonifico da 10 milioni. E poi ancora in basso l'eurolinea di Agnelli. Meno partite così tuteliamo i giocatori. Champions via la quarta sostituzione. Mercato più libero dal prossimo anno. Il Corriere dello Sport apre con Ricominciamo. Chiesa indica la strada. Ripartire dai giovani. Uno a uno con l'Inghilterra. Rigore di Insignia. Giugno il nuovo CT. E poi sotto la testata Sabatini rompe. Già svanita l'intesa con Suning. Divorzio dell'Inter è molto vicino. Ma come detto è stato ufficializzato pochi minuti fa. Tutto Sport che apre così. Juve primarie per il Real. Bentancur il candidato. E poi di spalla Toro Mazzarri. Già si scopre solo. E ora Cairo stoppa Belotti. Torniamo sui quotidiani abruzzesi. Andiamo a vedere le pagine dello Sport. Sul centro. Pescara Stellone aspetta. Ma occhio anche a Bucchi. I biancazzurri pensano all'allenatore del prossimo anno. L'ex Bari è in polo. Tuttavia il club valuta anche il ritorno dell'ex Sassuolo. L'outsider è Grassadogna. In attesa della salvezza la società inizia a sondare il nome del nuovo tecnico per la stagione 2018-2019. E poi in basso Candeloro Delfino. Si tratta ancora Bovo in dubbio per la gara di Brescia. Domani contro le Rondinelle. I biancazzurri potranno contare sui ritorni di Balsania e Capone. E poi la Serie C. Vicenza penalizzato. Salvezza più vicina. Il diavolo solo al quintultimo posto. La punta Panico. Ora sto bene e a Gubbio bisogna andare per prendere il massimo. Domani turno prepasquale per la Serie D. Oltre che per la Serie B. Avezzano, Paralombardi, Vastese, Rilancia, Leonetti. Poi ancora il trionfo dell'Acqua e Sapone nella Coppa Italia di calcio. A 5. Perez guarda oltre Acqua e Sapone. Si può aprire un ciclo. Il tecnico spagnolo ci sono le basi per continuare l'ascesa. La Coppa Italia deve essere un punto di partenza. Ieri l'allenatore Perez è uno degli assi dell'Acqua e Sapone Bertoni. Qui li vediamo con il trofeo. Hanno visitato la redazione del centro. E qui altri momenti con la delegazione dell'Acqua e Sapone calcio a 5. Passiamo ora sul messaggero prima di chiudere con le due pagine dello Sport. Pescara a Brescia. È già uno spareggio. Domani la sfida tra nobili decadute ma servono i punti per la salvezza. L'ex Antonelli e la spia settentrionale in queste gare prima non si deve perdere. Poi leggiamo in taglio medio. Pettinare Out dentro Capone e Valzania. e quindi il torneo delle regioni. Abruzzo sfida Lombardia e Bolzano sono le formazioni oggi avversarie degli allievi e degli juniors nel trofeo delle regioni. Andiamo all'ultima pagina. Il Teramo sorride. Il Vicenza penalizzato. I Veneti ora sono alle spalle dei Biancorossi. Tolti 4 punti. L'attaccante Panico pronto a rientro. I miei gol per la salvezza. Decisione Covisoc da valutare le condizioni di bifurco. Varas e Tulli squalificati. Saltano il gubbio. Poi ancora per il basket. Roseto brilla grazie anche alle prestazioni di contento. Il playguardia girava a 12.7 punti di media. Ora è salito a ben 24. Per il calcio a 5. Giannascoli ritira Pescara nelle ultime tre giornate. O meglio è in atto questo genere di valutazione dopo la Karel che è insorta negli ultimi giorni. Poi di spalla per il rugby. L'Aquila Cialente recupera ma è ancora in osservazione grande solidarietà del Benevento che riceve i familiari. Per il tennis tutto pronto a Francavilla per ospitare gli internazionali. Chiudiamo qui dunque questa edizione di Mattino 6 che tornerà domani alle ore 8. Vi ricordo gli appuntamenti con i nostri TG alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23 e poi vi ricordo anche che in via del tutto eccezionale sarà in onda questa sera alle ore 21 il nostro settimanale dedicato al ciclismo Velo con la conduzione di Jacopo Forcella e Luciano Rabottini perché poi domani sera ci sarà spazio per la trasmissione diretta a stadio per seguire la gara tra Brescia e Pescara. Dunque questa sera in via eccezionale Velo alle ore 21 su TV6. Grazie a Claudio Di Giacomo in regia e grazie a voi per la cortese attenzione. Buona giornata. Grazie a tutti.